Lunedì 18 maggio riapriranno i ristoranti con delle regole ben precise. Andiamo a vedere come si andrà a pranzo o a cena in un ristorante. A partire, ricordiamo, da lunedì 18. Al ristorante si entra rigorosamente con la mascherina e bisogna disinfettarsi subito le mani. Buongiorno, vorrei pranzare. Prego, si accoglie. Benissimo. Grazie. Solo nel momento in cui ci si siede a tavola si può togliere la mascherina che va indossata quando si torna negli spazi comuni, ovvero per andare in bagno e quando si va a pagare il conto. Per quanto riguarda le distanze tra i tavoli, tra un tavolo e l'altro bisogna rispettare la distanza di almeno un metro. E come vedete in questa stanza ci sono tre tavoli apparecchiati e per tutti e tre viene rispettata questa regola della distanza di un metro. E poi la distanza di un metro tra i commensali seduti allo stesso tavolo, questo è un tavolo per due e la distanza di un metro è rispettata. Per l'ordinazione bisogna farla a voce oppure utilizzare un menu usa e getta. Noi facciamo l'ordinazione a voce. Dopo che il cameriere Buongiorno ha elencato quello che è il menu a disposizione si ordina. Allora un primo e un secondo, per primo uno spaghetto alle vongole e per secondo un orata. Indossiamo la mascherina per andare a pagare il conto, ricordando anche che la mascherina va indossata sempre, anche quando ci si alza dal tavolo per andare in bagno. Andiamo dunque a pagare il conto. Per quanto riguarda il pagamento del conto si consiglia l'utilizzo di strumenti elettronici, carte di credito oppure Bancomat. Pagato il conto, quando si esce ci si disinfetta nuovamente le mani ed è finito il pranzo con le nuove regole sul coronavirus. Siamo appena usciti dal ristorante, abbiamo appena finito di pranzare. Qual è l'obbligo del ristoratore nel momento in cui il cliente esce dal locale? Non è nulla di diverso da quello che facevamo prima. Bisogna igienizzare il tavolo, la seduta dove è stato il cliente e poi a fine servizio igienizzare gli ambienti. Dunque il 18 si riparte nel modo in cui abbiamo fatto vedere. Siete pronti? Siamo quasi pronti, stiamo studiando bene gli spazi, come recuperare in maniera migliore per avere più tavoli possibile. Ripartiamo martedì a pranzo perché appunto a lunedì non c'è pesce, quindi siamo obbligati quasi. E voi utilizzerete anche lo spazio esterno? Sì, utilizzeremo lo spazio esterno, infatti ringraziamo per questa agevolazione aiuto perché purtroppo abbiamo bisogno anche di aiuto adesso perché non è un periodo facile per tutto il commercio in generale.